Da settimane si aspettava l'inizio della fase 2 con grandi aspettative, ma ieri, dopo il discorso in diretta TV del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le speranze di chi si immaginava una ripartenza più rapida sono state subito infrante. Non è un libera tutti, ha esordito il Presidente del Consiglio, e infatti dal 4 maggio continueranno ad essere vietate le cene in casa con amici, le riunioni familiari con i parenti, che si potranno sì vedere, ma solo i più stretti e con distanza di sicurezza e mascherina, no anche alla ripresa delle messe religiose nelle parrocchie e l'autocertificazione per gli spostamenti resta comunque obbligatoria. Qualche piccola concessione arriva invece per le attività all'aperto, via i libera e i runner che dal 4 maggio possono tornare a correre anche lontano da casa e sì a passeggiate in parchi e giardini, anche con i figli, mantenendo però la distanza. Il calendario per la ripartenza, illustrato dal Presidente del Consiglio, prevede che già da questa settimana ripartano le aziende strategiche, industriali e produttive che esportano all'estero, più alcuni cantieri. Dal 4 maggio invece riprenderanno l'attività la maggior parte delle imprese della manifattura, delle costruzioni, del commercio all'ingrosso e i cantieri privati. Sempre dal 4 maggio ci si potrà iniziare a spostare all'interno della propria regione di residenza, ma saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e gli incontri tra persone saranno limitati alle visite ai familiari stretti, perché rimane comunque in vigore il divieto di assembramento. Dal 18 maggio poi potranno riaprire i negozi al dettaglio, dall'abbigliamento alle gioiellerie, ma dovranno dimostrare di essere in regola con tutte le misure di sicurezza sanitaria necessarie per clienti e commessi. Dal 18 via libera anche per mostre e musei con ingressi contingentati, rispettando le distanze e indossando la mascherina. Invece cinema, teatri e sale da concerti rimarranno ancora chiuse. Solo dal primo giugno potranno riaprire bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie che fino a questa data potranno effettuare solo il servizio d'asporto, ma le regole all'interno saranno rigide con due metri tra un tavolo e l'altro e mascherine e guanti per i camerieri. Sempre ad inizio giugno parrucchieri e centri estetici. Cambierà però il modo di fruizione, si potrà andare solo su appuntamento perché bisogna rispettare il rapporto di un lavoratore per un cliente e poiché è impossibile mantenere la distanza, entrambi dovranno indossare mascherine e guanti. Il 17 giugno invece è il giorno in cui dovrebbero iniziare gli esami di maturità. La prova non sarà in videochiamata ma di persona rispettando rigide misure di sicurezza.